Sono in tangenziale e c'è un incendio, c'è un incendio, merda, c'è un incendio grave, vediamo cosa si tratta, sembra che l'incendio sia proprio, porca miseria, nella tangenziale è come quando è scoppiato il camion nell'agosto di, mi pare, due anni fa, merda, ma che cosa sta succedendo? Oh mio Dio, oh Dio mio, va veramente un incendio in tangenziale, oh cazzo, cos'è? Ma cos'è un camion? Sa che c'è l'ambulanza dietro, no? E cos'è che è scoppiato? Porca miseria, speriamo che non scoppia come l'altra volta, è un camion, è un camion, merda, no non scoppia, non è la bombola, Dio buono. Mi sono fermati a guardare, non so se ci si spossa sto camion, porca miseria. Mamma mia, vi giuro eh, io in diretta non ho mai visto una cosa del genere, mai. Una cosa spaventosa, speriamo che non è morto, mamma mia che fumo. Oggi è il 7 settembre del 2020, ciao da Bologna.